BFA Ecosistema, società di consulenza multidisciplinare per le imprese, ha aderito insieme agli altri fondatori al progetto di Forum per l'ingegneria 4.0 per portare la propria esperienza nel campo ovviamente della consulenza strategica ma soprattutto sul concetto di ecosistema. Infatti sono anni che BFA lavora in questo ambito anche al proprio interno credendo fermamente che solo una condivisione prima interna all'azienda e poi con altri soggetti sia la chiave vincente per affrontare le future scommesse del mercato. L'ingegneria è una delle professioni del futuro unitamente a quella della consulenza strategica in quanto l'ingegneria serve e servirà a sviluppare tutte le soluzioni per migliorare ovviamente il mondo in cui viviamo. Riuscire a portare la nostra esperienza di ecosistema all'interno di questo mondo sicuramente porterà dei benefici reciproci perché ovviamente anche noi attingeremo dal mondo dell'ingegneria tantissimi spunti interessanti e l'evento odierno ha messo effettivamente in risalto come tutte le principali aziende, i principali competitors ma i fondatori in particolare di questa iniziativa hanno a cuore il concetto di aggregazione. La strada è ancora in salita come in tutti i processi di cambiamento epocale però questa è la nostra ricetta, a noi ha portato molti benefici anche se con duro lavoro e siamo certi che li porterà anche a tutte le aziende che parteciperanno al forum ci auguriamo sempre più numerose e che comprendano che l'unico modo per uscire, per riuscire a crescere nel mercato futuro è l'aggregazione ma soprattutto anche l'apertura mentale e la contaminazione delle competenze.